abbiamo iniziato questa sezione sessione per manuela benvenuti ciao ciao conto come sempre da 51 induzione rapida e mi dici quando si è connessa a manuela 5 4 3 di miss la vedi vedo questa scena siamo nazismo a vedo e con un tagliar grigio e un basco sulla testa la donna si dà l'autorizzazione questa donna se si gira mi dice sì come si chiama madia ed è nazista se seconda guerra mondiale seconda guerra mondiale si un corso quindi che hanno vedo ventesimo secolo e vedo le due x 1944 ok è una vita precedente di manuela parallela si avuta 2375 ok ci sono i figli in questa vita con lei io vedo un uomo quando mi ha detto ci sono i figli uno il più grande un uomo che è il suo uomo suo marito poi l'altro figlio lo vedo come vedo un amante una persona molto legata lo vedo sempre uomo però una persona molto legata a lei anche a livello affettivo come se lei vedesse adesso mi sta mostrando delle scene come se lei vedesse quest'altro uomo di nascosto dal marito ok quindi quello che oggi è il figlio grande è il marito quello che oggi è il figlio piccolo e l'amante è più grande o più piccolo del marito più piccolo quindi la causa esoterica di questa vita che ci mostra la parte sublinare di eterica di manuela è questo c'è un trio un triangolo io mentre come sempre mentre parli mi si mostra vedo dall'alto le scene in velocità e vedo un collegamento come se fosse ci fosse già un trio vedo un legame a tre tra questi tre anime ok i due figli che derivano sì comunque da questa vita lei me la sta mostrando perché lì che si è creato comunque o comunque non è solo lì c'è stato qualcos'altro ci sono altre vide però questa è quella più importante quella che per lei è più che deve essere venire fuori per per manuela di oggi ok andiamo al 46 in questa vita di manuela e di suo marito e amante che succede la guerra è persa vedo un cambiamento di casa vedo un cambiamento lei c'è un cambiamento radicale della sua vita nel senso prima era benestante comunque questa vita con il suo marito dopo la fine di tutto c'è un crollo generale e lei vedo che approfitta per come se approfittasse per la crisi mondiale tra virgolette lasciasse lasciasse il l'attuale marito di quella vita per per andare con questo ragazzo giovane vedo un forte legame o questo uomo si trasferisce dalla germania si era la germania vanno in francia ok come finisce la vita di nadia fa fa delle figlie femmine con questo uomo delle figlie femmine finisce rimane però lei rimane da sola perché questo uomo che era già più giovane di lei muore comunque prima di lei muore di una malattia vedo che lei rimane sola con delle figlie che la accudiscono andando avanti nel tempo e accelerando un pochino vedo lei sul letto e delle figlie del insomma delle sue figlie che sono lì che la accudiscono le stringono la mano prima di andare via ok nadia era una nazista cosa faceva nella sua attività di militare secondo me l'hai detto mi sono innalzata si ho visto militari intorno a lei i rettili a livello energetico questo durante la vita di maria o oggi oppure oggi la vita di nadia durante la vita di nadia hanno visto questa scena guarda già che ci siamo se sono gli stessi militari e rettili di un dei sogni che ha fatto una volta di soldati e medici che la mettono su un furgone tentano di iniettarle qualcosa e si sveglia e di quei rettili che attivano i rettili che telepaticamente in passato le hanno detto delle cose nei sogni ma anche lì lei se ne sia opposta insomma si sono loro vedo dei militari tedeschi e dei rettili che fanno questo vedo delle macchine militari proprio che trasportano delle persone come se venisse proprio rapita si sono loro abduction sì sì scusa quante ne vedo qua quattro al mese in alcuni alcune volte però anche di meno in alcuni periodi anche di meno sono gli stessi quindi bene chiamiamoli chiamiamo questi militari vediamo di che nazionalità sono quanti sono che grado di importanza militare hanno arrivano tedeschi e russi che collaborano vedo rettili rettili intorno a loro vedo questo è un c'è una in particolare perché sono andata a cercare quando mi ha detto anche il grado insomma il militare un pochino più importante che è come se fosse vedo come se fosse vivo cioè in realtà come se fosse incarnato è come se la sua parte eterica o qualcosa di lui mi abbia visto perché chiaramente l'abbiamo chiamato un quanto interferente per per la sessione e chi è adesso da un perfetto sconosciuto qualcuno nella vita di manuela no non è presente nella vita e manuela però mi è legata comunque a qualche non so se qualcuno all'interno della sua famiglia militare o comunque c'è c'è un legame però non riesco a vederlo bene chiamiamo tutte le interferenze vediamo chi viene militari rettili non abbiamo già visti c'è un falco uno solo grande sopra sopra vedo direttamente odino e poi l'uomo barbuto zeus vedo tanti militari in questa sessione contiamo lì dimmi quale numero che arriva 45 ci sono anche militari italiani io metto tedeschi e russi ok chi faccia un passo avanti il capo di tutti i militari con nome età e nazionalità se russo tedesco viene avanti un sopra sopra mi viene avanti dice essere americano però come se era nascosto mi parlo 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 sembra ruffo dal cognome si dice parlo quanti anni a 43 chi è la causa cos'è la quale è la causa del teleca di tutti i problemi tecnici che abbiamo avuto l'inizio sono loro particolarmente militari che cosa vogliono nascondere qual è il nome del progetto è arrivato hitler ma il nome del progetto hitler controllo mentale di chi di manuela è un progetto di hitler dove hitler non è incarnato è in un posto io vedo un commento i sotterranei come se fosse in dei sotterranei la sua energia dei sotterranei e qui all'inizio intorno a lui vedo sempre rettili alieni comunque come se continuasse dal dall'altra parte a collaborare con loro vedo questa cosa del controllo mentale molto forte c'è un controllo mentale controllo mentale nel caso di manuela dove si è dove ha ottenuto dei risultati positivi il discorso di delle pratiche energetiche della ricerca delle pratiche energetiche ok pranic e connective healing ovvero lei sente di conoscere già queste pratiche quindi non ha fatto fatica a impararle diciamo ai corsi in cui è andata allora mentre mi mi chiedevi mi arriva da un'altra cosa mi arriva da una vita come se vedo però cambiamo proprio scenario è legato a questa sua capacità di percepire perché la comunque c'è una persona sensibile un anima sensibile in egitto dove lei faceva delle pratiche come se lei aveva quell'epoca era vedo questo come se in quell'epoca era facile c'era normale poter sentire l'energia degli altri e guarirla io vedo che lei fa questa pratica in questa vita egizia come donna che fa questa pratica con con le mani sulle persone e doverà sto strana trana sì ok però prima mai detto che il progetto di controllo mentale funziona nel caso di manuela per il discorso di tecniche di guarigione no è come se c'è tramite questa sua capacità che si porta che la sua anima conosce per altre vite che lei ha fatto vara precedente parallele fosse un suo come dire no appunto debole però una sua ricerca personale che non indirizzata nella giusta maniera è come se tramite queste sue pratiche loro comunque riuscissero a tenerla sotto controllo per prendere energia per studiare queste queste sue cose che studiarlo è possibile dire che con queste pratiche si aprono dei canali e loro ne approfittano assolutamente siamo sì all'interno di un programma di un progetto che di tutt'altra natura assolutamente sì c'è il controllo mentale è un discorso che io la vedo se mi innalzo la vedo proprio vedo proprio come un'artificialità del mondo cioè proprio di renderci da un punto di vista più alto di renderci proprio artificiali per fare esattamente quello che loro vogliono per essere ricchi per per farci lavorare per tenerci sotto controllo e farci diventare praticamente macchine però a seconda delle persone dei soggetti che loro hanno davanti utilizzano un canale che per la persona più sensibile quindi in questo caso l'apertura a questo tipo di pratiche l'apertura a questo tipo di pratiche porta ad aprire un canale e quindi a fare entrare e a fare entrare e uscire perché poi io queste pratiche vedo sempre dei portali come se come se l'anima cioè la persona creasse un portale fosse un portale io vedo questo ok approfittiamo per chiedere una cosa che che manuele ha chiesto a che punto sta il transumanesimo come successo 53 per cento di successo quello che vedo è che c'è stato però un mentre questo progetto di tutta questa cosa che sappiamo senza nominarla è partita l'avevo vista molto più aggressiva cioè molto più impattante più che aggressiva quindi le persone era come se comunque avesse avuto a impatto un lascia passare adesso vedo che sta diminuendo se ci sono molte come se a livello mentale ci sia stata una abitudine mentale a questa situazione diciamo che l'essere umano è uno del noi siamo l'essere umano e molto si adatta è un animale che si adatta no perché in fondo siamo esseri che si adatta uno spirito di trattamento molto potente da questo punto di vista quindi è come se la mente si fosse adattata e abituata a questa a questa paura di quello che ci è stato detto e c'è stato di quello che è successo e si stia rallentando e ci sono molte sempre più persone quello che vedo che si rifiutano si ribellano a livello teorico tutto a livello mentale e a livello eterico vedo anche un aumento delle persone che prendono consapevolezza rispetto a quando tutto è cominciato e questo è in virtù di cosa grazie a cosa questo non ho capito scusa grazie a cosa vedo due cose la prima che secondo me quello che vedo è come se hanno perso un po la mano nel senso lo ci hanno portato a avere più tempo per noi c'è ognuno di noi con se stessi e la il discorso del dei fantastici poteri che in realtà l'essere umano a è come se stando di più da soli con se stessi molti di noi abbiano sviluppato e compreso alcune situazioni abbiamo abbiamo avuto anche più tempo per fare delle ricerche quindi ci sia stata un'evoluzione da una parte che non era io vedo proprio che non era aspettata non era calcolata quindi vedo un rallentamento e tutto questo io non ho verificato nulla ma ti ripeto quello che ho visto così nei social dopo la punturina qualcuno accende il bluetooth del telefono e scopre che ci sono c'è una device sconosciuta nei paraggi tanto che alcuni l'hanno fatto in luoghi molto affollati dove presumibilmente tutti avevano fatto la punturina e c'è un elenco infinito di codici alfa numerici che sono possibili e potenziali utenti device che si tornano decono nanotecnologia vita e perché non è bloccata perché è così visibile e quindi è diventato virale e verificabile tra l'altro da chi ha fatto non ha fatto la cultura quello che vedo è che allora non interessa più di tanto c'è una parte di progetto che non è andata come doveva andare quindi adesso stanno comunque cercando di cambiare quello che avevano deciso come dire come se è come se c'è stata tra virgolette una rivolta da parte degli umani non aspettata quindi un rifiuto una rivolta che ha anche a livello eterico io lo vedo e fisico e mentale e quindi loro comunque stanno andando avanti e tra parentesi questa cosa che che tutti cui mi ha parlato ho anche sentito appena ne parlavamo ho visto proprio un amo tecnologia ma non l'hanno non l'hanno nascosta tra virgolette perché ha comunque un un attrazione quindi un focalizzare l'attenzione su qualcosa dove noi purtroppo siamo si social tutto queste cose qui l'uomo viene attratto e si ferma lì e se ne parla se ne parla se ne dà energia comunque e intanto si lavora anche su altri fronti quasi quello che te ci stiamo ci stanno computerizzando e come se nel mentre succede questo escono fuori iphone nuovi situazioni nuove sempre come lo vedo piano piano c'è un discorso che è lento ma ma c'erano in questo momento si accelera cioè era più lento prima cioè questa cosa è come si blocca l'attenzione lì e loro intanto sta aumentando gli ologrammi tra un po si parlerà tra un po per parlare col telefono io vedo che praticamente tu parlerai un ologramma davanti a te non parlerai più col video io ho avuto questa visione e quindi piano 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 diventeremo artificiali cioè io comunque è rallentato molto però quello che vedo è che stanno spingendo molto sulla sulla bellezza che non è così ovviamente che che noi troviamo in queste in queste modalità quindi io lo grammi quindi tutta la tecnologia che che sembra che ci ci è una mano ma invece ok come vedi le condizioni qual è la causa di questo eco della mia voce che almeno io sento poi non so se si sentirà nelle registrazioni mentre non chiedevi ho visto falco falco suo che sta sopra militari e poi sopra sopra audino che rompe scatole ok anche per cento doveva essere il terzo umanesimo a quest'ora al giorno d'oggi 85 e del 53 ok chiamiamo l'ex marito chiamiamo i due disincarnati ex marito e madre l'ex marito lo vedo trattenuto dai militari con i rettili come se avesse le mani vedo un uomo con le mani dietro le spalle così che viene trattenuto così come se non lui volesse andare in un posto non gli viene permesso causa esoterica del dell'incidente che l'ha portato via prima cosa vista scelta sua altra cosa vista vedo sempre militari c'è qualcosa che anche lui è legato come se lui facesse parte dello stesso progetto nella stessa situazione non si fosse riuscito a liberare ok è legato alla terra anche sì 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 i figli basta lo vedo molto legato lo vedo sulle spalle di un ragazzo di un quindicenne non lo so anche uno dei due figli può essere a manuela hai un figlio di 15 anni 20 e più e l'altro di più non è tuo ok ne è uno solo quindi figlio a ok ok va bene chiamiamo la madre insieme non riflettiamo tutto il processo vedo questa scena quando abbiamo detto chiamiamo la madre vede una farfalla una farfalla grande si mostra come una farfallina che che si posa sui fiori percepisco come la mamma ok è legata alla terra no no lei la vedo già in un posto di una consapevolezza diversa tra se la mia mamma io vedo che lei la mi si mostra come farfallina che buona però la vedo già si da un'altra parte con una consapevolezza diversa più più alta come se lei riuscisse a venire qua salutare manuela in forma di farfallino vedo questo ok creiamo un grammofono quindi un vecchio giradischi dell'epoca della seconda guerra mondiale costruito con tutte le informazioni delle mie sessioni e ne offriamo una copia alla madre è una coppia all'ex marito allora la mamma continua a mostrarsi da farfallina che vola sui fiori mi si mostra così prende l'informazione e da gialla diventa verde e rossa adesso vedo le ali della farfallina verde e rossa come se diventa più visibile prende il grammofono cioè cambia il colore reale l'informazione se ho detto informazione però si prende il cammo e l'ex marito fa difficoltà perché come se avesse le mani dietro la schiena legate come se fosse legato il trattenuto vediamo vedo questi militari che lo che lo trattengono fatte difficoltà a lui è come se non sa ancora cosa sta non ha ben capito cosa sta succedendo il gramofono inizia a suonare e suona l'informazione quindi in ogni caso l'informazione lo raggiunge ok vedo lui che adesso lo vedo vedo il viso perché prima aveva la testa abbassata guardava a terra sente il suono alza la testa e fa il gesto di liberarsi le mani i militari si allontanano adesso però ancora non sta capendo adesso può prendere un braccio il suo bravo grammofono che suona toccarlo mangiarlo suole l'ha preso un po diffidente però l'ha preso e non deve essere diffidente sono solo informazioni non sono fatti e ne sono contratti non sono entità non sono militari non sono inganni non sono promesse sono solo informazioni informazioni che vero possono non essere attendibili dal suo punto di vista ma sono solo informazioni può prenderle così come sono può ritenerle non attendibili forse attendibili molto attendibili questo dipende da lui ma le informazioni non fanno male a nessuno e ci sono informazioni che nascono da un certo numero di sessioni da una ricerca lunga e variegata ha preso lo ha mangiato lo sta mangiando si sente più tranquillo adesso chiede scusa non so perché dice scusa scusa scusate ok vuole lasciare un messaggio a manuela dice grazie di cosa di questa informazione dice grazie perché ero ero in un punto di ero fermo non sapevo dove dovevo andare e non sapevo quello che potevo riuscire a fare grazie per avermi offerto la libertà fatto capire la libertà vuole lasciare un messaggio ai figli io lo vedo studiare non vedo che scrive cosa dice vede il figlio che scrive di lui che grande il piccolo un grande scrive del padre ma cosa in un lavoro di scuola no mi mostra come se lui vede che il figlio scrive delle lettere delle scrive su della carta del lettere un quaderno di lui c'è il figlio scrive del padre mi mostra questa scena e lui dice che lo vede quando lo fa e facendo questo come se lui si sentisse richiamato il ricordo di un disincarnato è una cosa il disincarnato che resta attaccato alla terra è stata cato alle persone agli oggetti ai luoghi è un'altra specialmente le rimanere attaccati a delle persone genera delle persone dei problemi dei difetti delle inconvenienze del gioco in più lui non va dove dovrebbe andare il suo gioco è in pausa è bloccato il suo percorso il suo gioco chiamiamolo con il suo programma personale chiamiamolo come vogliamo quindi lo dico alla madre e lo dico all'ex marito perché la madre non lo è da tutto quello che terreno facendo quindi beneficiare di questa cosa sia eventuali luoghi o persone sia lui stesso e da andare a supportare definitivo questo l'ex marito la madre ha ascoltato le chiediamo l'ex marito ha messo un vestito diverso adesso si è messo un jeans e una camicia è detto che va a pesca mi dice questo che va pesca ok perché perché è una cosa che piace fare dicevo di andare a pesca ma questo nel portale nel portale sì sì lo vedo seduto su come se si fosse aperto un portale a cerchio lo vedo lì su boi sul bordo che ha preso accelerato il tempo e ha preso le nostre informazioni e lo vedo che con una canna da pesca in mano che vuole andare nel portale a pescare dice ok suoi lasciare un messaggio finale ulteriore lo può fare altrimenti lo salutiamo continua a dire grazie dice grazie ma con lei ma a lei va bene lo salutiamo si è staccato da tutto quello che terreno si era fatto già adesso ora la madre messaggio verifica che si è staccata stesso processo si mostra con una farfalla verde rossa che gira intorno a dei fiori lei dice quando vedrai una farfalla sarò io da di là che ti vengo a salutare nel mio modo di starti vicino in qualche maniera ma io sono già di là tu mi hai già visto io sono già di là basta la tempura tra lì attraverso un portale si è come se lei stava già in un posto ma vedevo già che volava in un giardino con dei fiori e come se già stava di là stava già nel suo portale il suo mondo creato diciamo che non è tornata di qua non è trovata di qua esatto come se noi abbiamo visto dove sta lei va bene anche l'origine del dono l'abbiamo vista quindi è una vita in egitto egitto 6 i due sogni li abbiamo visti a causa causa sotirica del sogno in cui manuella sogno appunto che il suo padre che vivo firma qualcosa vedo che fa parte della sua connessione con con questo uomo e che comunque a livello eterico è come se lei i suoi occhi eterici vedessero avessero una certa consapevolezza al padre sta in realtà con un'entità in questo sogno è come se lei avesse il sogno è una delle modalità al quale noi come si dice tramite il quale riusciamo a vedere a livello eterico certe cose che accadono quindi avendo una comunque una capacità non ancora forse indirizzata nella maniera giusta ma avendo comunque una sensibilità riguardo a determinate situazioni tramite il sogno a lei come anche altre persone come anche a tanti e come se andassero a vedere cosa sta accadendo a livello eterico ad altre persone vedo questo sono occhi eterici il sogno ok diamo il grammofono anche al padre un uomo che si sta seduto su una sedia marrone come se fosse si fosse accorta la sua anima che gli stiamo offrendo questo lui comunque si alza e lo accetta l'ha preso beh vediamo sabrina gli eventuali impianti eterici di manuela vedo qualcosa a livello delle mani mano destra che si attiva anche quando lei fa qualcosa con la mano a livello energetico tramite questo impianto come se tramite la sua attivazione energetica come se prendessero energia mentre lei fa delle pratiche ho approvato a fare delle pratiche mano destra o sinistra mano destra mano destra e poi la vedo legata qui al del terzo occhio della testa qui come se c'è un legame tra questa pratica energetica e questi due impianti come se si attivasse insieme quando lei comunque si apre quando lei prova qualcosa a fare qualcosa quando le si sente connessa è come se si attivano questi due impianti nel momento in cui lei a questa connessione perché lei ce l'ha realmente questa connessione a livello eterico la vedo molto parte derica lei che percentuale sabrina scusa sì ma scusa sembravi bloccata direttamente ferma che parte per i casi percentuali di partite ricca a rispetto alla parte 65 67 vedo come se più più la parte eterica è alta e più c'è una connessione con le tre anche se poi in realtà quando ce n'è più quando c'è l'equilibrio però in questo caso vedo molta connessione legata la parte eterica e lettere proprio c'è la parte matrix energia della matrix vedo questa cosa qui va bene altri impianti stavo dicendo la vedo qualcosa al livello del ginocchio ginocchio sinistro basta è una pallina una pallina di luce poi vedo 3dl ti volevo dire ok ci sono cloni militari maschi una femmina due cloni che fanno dove stanno io vedo altri pianeti azioni militari se sono dei militari tutte e due sia il maschio di una femmina insieme però li vedo come se stanno nello stesso posto sono tutte e due militari hanno insieme se sanno lui e lei che sono cloni e fonte la fonte la stessa quindi diciamo sono praticamente la stessa cosa no non lo sanno fanno sesso tra di loro mentre mentre dicevi vedevo loro che comunque c'è un rapporto come se fossero compagni di di lavoro e di vita strana prima volta vedo due croni così legati perché sono comunque c'è la stessa anima dentro quindi sono tra l'anima e pezzo di anima quindi si vedo proprio una connessione ok diamo loro l'informazione che sono cloni e che sono nascono dalla stessa dallo stessa dna quindi seguiamo sono fratelli se praticamente vediamo come reagiscono all'incesto e stanno in piedi grazie a manuela vedo questa scena è come se è arrivata l'informazione che gli abbiamo dato adesso li vedo per mano vestiti da militari si girano tutte e due ci mi guardano come se dicono ma che state dicendo quindi diciamo che il militare che sia clone che sia umano alla bassa consapevolezza a procedere da tutto assolutamente sì sono proprio lo eseguo che ogni ne vedo ibridi perché vedo anche altro dna ibridati comunque cioè è stato usato altro dna per altri cloni futuri ok bene passiamo velocemente alla presunta anima gemella un uomo con cui manuela non ha più rapporti perché aveva delle questioni che non le piacevano ma con cui andava in risonanza molto facilmente lo vedeva lo sentiva molto bene che un giorno a guardandolo ha sentito la prova avvertito la propria eternità in lui no allo aperti da un un angelo in realtà con dl io vedo mentre mi parlavi vedo sempre la scena in allora e quest'anima quest'ora questo uomo è stato cioè comunque ha avuto un altri vide altri vide con lei quindi sicuramente c'è una finita però quello che vedo non è la sua anima gemella come la intendiamo come lei la intende ma vedo che questo angelo si è approfittato di questa situazione quindi in realtà non l'affinità ripeto vedo altri vide con quest'anima però è come se fosse stata interferita e bloccata e non un po interferire cioè reali ma non cioè indirizzata verso questa forte empatia che lei ha di apertura nei confronti di delle persone comunque anche di legame che lei crea lo vedo forte perché la capacità cella però se ci sia stato questo ve lo vedo come angelo mi si presenta con le ali che si sia che si è messo in mezzo e abbia interferito fortemente fortemente questa situazione ok diciamo di prendere la sua reale forma non di angelo e dimostrarsi a manuela e a il suo ex compagno è una semplice palla energetica senza forma non ha una forma come se fosse io lo vedo come un la palla energetica la palla però non tonda ma tipo cilindro energetico che si muove non riesce a stare fermo come se non avesse bisogno del movimento dove sono i tre i tre i tre in manuela mano destra guidandolo il dipianto se mano destra e nella testa e poi un altro vedo che di più che entra esce dal suo corpo si approfitta di più delle situazioni a livello emotivo va bene causa esoterica dell'iperidrosi a mani e piedi cioè mani e piedi sudati allora vengono vedo due cose diverse cose la una è come una reazione corporea di di fuoriuscita di qualcosa che le viene iniettato nelle abduction poi vedo come uno scarico energetico cioè come se avesse un discorso di non so vedo vedo questo come se si alzasse la pressione come se avesse del fuoco emotivo di scarico e venisse con la fuoriuscita di questa situazione nelle mani e nei piedi venisse riuscire scaricato esatto non mi veniva la parola si è operata alle mani il problema diciamo esteticamente praticamente risolto e teoricamente no nel senso finché lei a livello energetico non equilibria non fa un lavoro di pulizia non è quelli non si equilibri a livello di anima a livello di di controllo anche di questi suoi poteri perché io vedo anche mentre durante la sessione lo volevo dire vedo anche altre scene lei a livello etarico è come se si collega si collega alle persone non se ne rende conto a volte io vedo delle scene dove lei ha delle forti emozioni che non sono sue perché alla cioè alla capacità di di collegarsi come fosse una televota ma non lo sa quindi non controllata esatto è come se si fosse una cosa incontrollata e quindi prendesse le emozioni delle persone al quale lei si collega senza rendersene conto e quindi c'è un disequilibrio energetico non riesce a fare una distinzione tra ciò che suo e ciò che non è suo a e la vedo anche che se li porta cioè se nei giorni anche se cose non sue fino a che poi c'è comunque se ne libera in qualche maniera però a livello emotivo è come se provasse a volte delle emozioni arrivassero delle emozioni all'interno del suo corpo che non sono sue come se anche il corpo se ne rendesse conto l'anima se ne rendesse conto e dovesse in qualche modo farle fuori uscire come per dire non ti appartengono io vedo questa situazione qua ma qual è il legame con l'iperidrosi è una reazione corporea è una scelta del suo modo cioè una scelta del suo corpo per tramite il sudore c'è una liberazione di tossine inoltre legato anche però ho visto anche prima dell'abduction quindi anche dei liquidi che non che non sono suoi diciamo così ok causa esoterica dell'herpes che ha spesso scusami io vedo come se sudando il corpo umano sudando anche con questo senso erpes lei gode di ottima salute per basse difese in congruenza vedo la stessa motivazione sono due modalità che il suo corpo scelto l'herpes è una febbre mancata vedo questo in questo caso come un'influenza mancata e quindi è come se scegliesse lei sa di avere una buona salute questo suo modo di pensare fa sì che non si ammala perché comunque la mente ovviamente un forte potere anche sul corpo c'è la corpo mentale ovviamente agisce sul corpo fisico quindi lei non si ammala però in qualche maniera siamo tutti esposti comunque delle dei batteri delle situazioni che ci portano comunque a avere anche lo stress anche dei momenti di di un abbassamento di a livello immunitario e quindi sia uno sfogo tutto qui non vedo delle vabbè dell'entità intorno a questa cosa sia una cosa su chiamiamo la sua anima gemella se si presenta se no dimmi semplicemente dov'è chi è se c'è io vedo un animo mi si presenta un animo al formato c'è proprio un anima non non fisica non in cremata morta già morto quello che vedo è una una parte subliminale che non è che in questo momento non è incarnata però mi mostra altre perché allora quando abbiamo chiamata mi è arrivata quest'anima che dice sono io come se fosse una parte di lei quindi ho visto questa forma come se mi volesse dire che non è incarnata però poi mi mostra dei pezzi di vita è come se mi sta mostrando dei pezzi di vita che loro hanno fatto già insieme però in questo momento in questa linea temporale lei non c'è non è presente fisicamente e lei dice come se non abbiamo già fatto tante evidenziare ne faremo altre ma in questo momento io non sono qui va bene vuole il suo messaggio come si vede il trascumanese modali mi mostra mi fa vedere questa scena mi mostra la terra che è contornata da una gabbia come se fosse ingabbiata da una da un una gabbia fatta di fili rossi come se cercano di ingabbiarci mi mostra questa scena però ci sono delle fessure tramite questa gabbia si vedono delle fessure tramite il quale come se c'è dell'energia della terra che sarebbe per la nostra energia che fuoriesce e sta tentando di distruggere questa gabbia che è stata messa sulla terra e facesse parte dell'energia di tutte le tutti coloro che delle ps che si stanno ribellando dimostra questa scena lei che percentuale sono la che le ps che si stanno ribellando 65 per cento va bene analizziamo in ultimo velocemente il corpo emozionale di manuela rivisto la casa di me quali emozioni a bassa frequenza veri disequilibrio mi viene subito questo vedo subito disequilibrio la sua energia io non la vedo non la vedo troppo diciamo bassa come posso dire non vedo grosse a livello emotivo emozioni che vibrano basso però vedo forte disequilibrio è come se di tutto ciò che come se non sapesse cosa dovesse farne vedo questa cosa qui un po di insicurezza deriva dalla sua insicurezza non riesce a mettere a posto i pezzi che lei ha che lei ha scoperto le cose che sa le capacità che ha i ricordi che ha avuto ok un po di confusione ma non è un vero emozionale questo a livello emozionale a polo parta lo parta in sicurezza ok va bene che che cosa vuole fare vuole trovare alfa strada mi sta dicendo adesso ok lei lei sa bene che le sue 2375 vite hanno 2375 contatti o anche di più sistema cluster cosa vuole vuole fare andare a vederli o facciamo così come stanno le cose no vuole pulirsi lei ha fatto questa sessione per pulirsi dice ho voglia di pulirmi una volta al cluster c'è un tavolo me lo mostra così lei ti mostra un tavolo con tutti i libri sopra tutti ammassati una sopra l'altro su un unico tavolo come se l'avessi già racchiusi per fare prima il lavoro l'esera impacchettati mi sta impacchettando e apre un buco definitivo li chiude come se li chiude con una valigia liquida valigia riprende tutti di chiude tutti in una valigia mi fa vedere questa scena e butta la valigia con tutti i libri contratti dentro dentro il buco benissimo cosa vedi del quadro interferente di modificato eventualmente con solo questa parte vedo non vedo più il discorso militari d'action ok andiamo all'avatar punto c'è un avatar che sta accucciato per terra accanto alla sedia c'è seduto accanto alla sedia accucciato che si dia nelle ginocchia come se fosse spento però visto in questa modalità disattivato se in questa posizione da quanto tempo da quando ha deciso di fare la sessione ok allora prendiamolo buttiamo con la postazione il computer lo prende butta lavata sedia computer spino scrivania fatto ok con queste nuove condizioni ci sono ancora i 3 dl no i due cloni incestuosi no non ci sono o non sono più collegati a lei io vedo che quando lei ha fatto il lavoro dell'avatar c'è una energia che si porta via tutto cloni e dl impianti entità tutto come se fosse racchiuso tutto qui cioè come se questo fosse il momento di decisione dove viene scritto tutto quello che sotto poi noi vediamo quindi in quel momento ogni volta che me lo chiedi faccio un passo indietro rallento il tempo e lei mi fa vedere che va via tutto i cloni non ci sono più come se non fossero mai esistiti quelli e dl impianti abstraction dl impianti vedo come se come un ventilatore al contrario praticamente un vortice portasse via tutto quindi mi fa vedere entità mi fa vedere i rettili mi fa vedere gli impianti come se si staccassi tutto qui lei perché la ps la pia non l'ha fatto da sola mi dicono perché a livello eterico dobbiamo imparare vedendo voi lo impariamo come se non lo sanno fare come se questa nostra modalità sia una modalità innovativa un'evoluzione della del lavoro eterico un'evoluzione a livello eterico un'improca a livello eterico a quanto vivono e l'adesso 5 milioni 5 miliardi scusa quanto prima il 2 ok diciamole che può aumentare si vuole la sua frequenza a livello ottimale a quanto sta psp e 67 33 prima adesso 47 la p e quindi diminuita meno della metà adesso si passi un po più alla ps la raggiungeranno l'equilibrio poi un mese e mezzo un cambio che lei scusa dal tempo che lei vedo che lei adesso deve prendere consapevolezza di rendersi conto di tutto questo le vite sono sempre le stesse in numero ne vedo diminuite però non ricordo il numero 25 2375 ne elimina 100 più che elimina io in questo caso vedo che le cambia come se alcune vite non le vuole eliminare le ha cambiate avesse preso delle scelte diverse e quella di nadia è cambiata o eliminata o che è successo è uguale non si sposa con il marito di nadia ma vedo che cerca direttamente l'amore della sua vita il figlio il figlio piccolo di questa quali influenze avrà nella vita attuale di manuele a questo cambiamento avrà più chiaro certi legami che lei ha avrà più chiaro certe dinamiche che accadono all'interno della vita di manuela e quindi è come se fosse più no permissiva come si dice rispetto la libertà dei figli rispettosa del discorso che ci sono delle dinamiche che come se lei adesso le comprende ci metterà del tempo adesso la sua mente deve elaborare adesso deve passare filtrare per la sua mente e dare un equilibrio a tutto quello che lei ha visto e come se fosse più non lascia passare più però comprensiva ecco una parola corretta di alcune dinamiche che lei avrà di alcune cose che accadranno perché ci sono cose che ci si che le anime si portano dietro da altre vite che vengono eliminate le cose che non ci servono in questa parte che stiamo facendo ok però comunque rimane l'esperienza e quindi comunque certe cose continuano essere a ripetersi in un certo modo messaggio finale della ps della piedi monica e di monica di manuela a se stessa e se vuole anche alla soulmate che non si è incarnato loro dicono insieme parla ma insieme devi trovare un equilibrio con tutto quello che tu sai e che sei prendi consapevolezza di tutto quello che è che scoperto e pensaci di più pensa di più a noi siamo noi la tua essenza dicono abbassa il mentale connettiti di più a noi anziché sprecare le tue energie per connetterti a ciò che non ti serve tu fai dei test così tutti i testi testi noi però tramite questi test tu sprechi energie attrai ciò che non ti serve l'esperienza e l'abbiamo già fatte quando vuoi connetterti pensa a noi concentra il tuo pensiero su di noi su noi che siamo la tua essenza non andare a cercare di connetterti con gli altri perché altrimenti la tua pulizia viene rovinata non ti serve tu sai quello che sai basta sì stavo vedendo quello che faceva cosa faceva sono due io vedo due bimbi due bambini maschio e femmina che stavano in un giardino e è come se cercavano di far capire a lei che non serve fare connettersi cioè mentalmente non serve ad andare a cercare di connettersi come se loro mi facessero vedere noi siamo già connessi tu sei già connessa bene a quello che ti serve con questa affermazione chiudiamo facendo un piccolo lavoro per tutti mettiamo quei gramofoni che abbiamo offerto all'ex marito alla madre di manuela quelli pieni di fatti costruiti con una materia che è diventata che di fatto tutte le informazioni delle mie sessioni e che emettono una musica che è tutta l'informazione delle mie sessioni li moltiplichiamo in centinaia di migliaia di miliardi in tutta la rete che hai visto prima che circonda la terra si concentrano in tutta la rete su ogni centimetro di questi fili e sono inattaccabili questi grammofoni eterni funzionano ed emettono informazione musica da adesso quando schiocco le dita in poi e vedo come un'energia fortissima adesso sia sprigionata da quello che abbiamo fatto che cade all'interno della dell'edere del pianeta e suona vedo del suono che arriva a tutte le ps le pie che vogliono prendere l'informazione come se ci fosse una pioggia di informazioni tramite questa azione che abbiamo fatto e la parte di questa gabbia che vedevo si è eliminata la parte sinistra di tutta la terra se uno specchio vedo come se di immediatamente si sia liberato uno spicchio di gallina di fosse libero se quali paesi prende a che livello ora c'è di mezzo l'italia quindi dall'italia in su in giù rispetto all'italia allo spicchio dell'arancia vedo dall'italia in su la parte europea si europa si svizzera germania da rimarranza a bello largo quindi banca in francia inghilterra sì ok va bene abbiamo finito quindi disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo